Com'è triste che la vita umana, preziosa come un diamante inestimabile, sia trattata come un soldo consumato e senza valore. Sai Baba, nessun giorno è uguale all'altro, ogni mattina porta con sé un particolare miracolo, il proprio momento magico nel quale i vecchi universi vengono distrutti e si creano nuove stelle. Paolo Coelho Chi sono io? Perché sono qui? Concentrati su queste essenziali domande, non lasciar passare la tua vita nell'oscurità. Io ti dico che siamo anime eterne, distinte dai corpi che abitiamo, fatte per godere di una gioia senza fine in col Signore. Possa tu oggi scoprire chi sei realmente, possa tu oggi sapere come mai sei qui, possa tu oggi essere colmo di pace, possa tu possedere fiducia in Dio. Possa tu, possa tu avere chiare le infinite possibilità che nascono dalla fede, possa tu usare i doni che hai ricevuto e trasmettere l'amore che ti è stato dato, possa tu brillare come un astro nel firmamento. Sii felice di sapere che sei un vero figlio di Dio. Sia questa consapevolezza presente in te. Consenti alla tua anima di spaziare libera, di cantare, esultare, ringraziare e amare. Sia così per te oggi, domani e sempre. Dio ti benedica immensamente. Daniele Barbarotto Sia così per te oggi, domani e sempre. 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 Sia così per te oggi.